ovviamente a tutte e quattro le finale di specialità mentre a corpo libero volteggio e trave e prima alle parallele è entrata con il quinto punteggio utile mentre qui siamo alla trave Zhang per tradizione alla trave la Cina è sempre stata molto molto forte rondata, salto teso uno degli elementi più complessi che si possono presentare alla trave brava un salto al centro molto delicato Benjambe, cambio e si prepara per la parte finale rondata doppio salto carpiato me lo Germetti è fuori asse rispetto al momento di partenza Igor grazie 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 grazie